È iniziata la fase 2, con il ritorno di circa 4 milioni di persone al lavoro e le regole di distanziamento sociale da mantenere, uno dei principali problemi resta quello dei trasporti messi a dura prova, soprattutto nelle grandi città come Milano dove la maggior parte delle persone usa i mezzi pubblici per andare al lavoro e a Roma dove il servizio di bus e metropolitane, anche nella normalità prima dell'emergenza coronavirus, finiva spesso al centro delle cronache per disagi e disservizi. Accessi quindi controllati nel primo giorno di parziale riapertura delle città e regole precise per tutti. ATAC ricorda che per salire a bordo c'è l'obbligo di indossare la mascherina, ammessi anche viaggiatori in piedi sino al raggiungimento del 50% della capacità del veicolo. A bordo non si potranno poi occupare i posti con il segnale di divieto e alcune zone nei pressi delle cabine di guida e di manovra. È importante mantenere sempre la distanza sociale di un metro dagli altri viaggiatori e dal personale. E se nelle stazioni di treni e metropolitane l'accesso può essere limitato in base all'affluenza e bisogna attendere in fila aspettando i segnali sulla banchina, per bus, filobus e tram, in caso di raggiungimento di capienza massima, le fermate possono essere saltate o effettuate solo per la discesa dei viaggiatori. Trenord ha assicurato un potenziamento della rete nell'intera Lombardia dal 40 al 60%. A bordo obbligo anche di guanti oltre che di mascherine. Volontari della protezione civile distribuiranno dispositivi di protezione individuale messe a disposizione dalla regione. Nelle ore di punta alcune linee lavoreranno al 100% e ci saranno più convogli visto che non si può superare il 50% di capienza nei singoli vagoni. Per spostarsi nel territorio regionale a bordo di treni necessario il documento di autocertificazione. In generale i mezzi saranno spesso sanificati e si invitano i passeggeri dove è possibile a preacquistare i biglietti online. L'appello è sempre al buon senso e al rispetto delle regole. Sarà un nuovo modo di viaggiare per tutti.